il 2017 si chiude con la top volley la mezza che è in testa alla classifica grazie alla vittoria nel derby insomma che aveva chiuso questa prima fase della stagione si riprenderà il 7 gennaio con tre partite di fuoco intanto però c'è questa vette della classifica finalmente conquistata sì abbiamo fatto un bel campionato invernale sì e speriamo di continuare così che campionato è stato finora che impressioni hai avuto della squadra a risposto secondo te per quello che sono le sue potenzialità allora noi ci alleniamo sempre al 100% come ho detto alla scorsa intervista siamo 12 titolari quindi dobbiamo sempre giocarci il posto giocare al 110 per cento in allenamento niente mi sta piacendo stare qui tutto un cammino quello per arrivare in vetta della classifica che è stato lungo anche in virtù della sosta che c'è stata nella nelle prime giornate poi la sconfitta in in casa di pozzallo insomma complicato un po un po il discorso alla fine insomma si è riuscita a conquistare la vetta della classifica e quindi quella che nelle aspettative sarebbe la posizione che la società spera di poter tenere fine alla fine sì a pozzallo è stato diciamo abbiamo avuto un approccio un approccio sbagliato alla partita però siamo subito risaliti con la testa con allenamento e con il sudore e mo ci guardiamo questa questa prima classifica che siamo in prima classifica e niente grazie grazie per il vostro supporto la vera top volley la mezza però è quella vista nell'ultima gara il derby contro la raffaele sì abbiamo fatto una grande partita grazie soprattutto al pubblico che ci ha sostenuto grazie a tutto lo staff ai presidenti a ogni persona che ci segue da casa grazie 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 di tutto alla ripresa subito tre gare difficilissime che determineranno insomma un po anche quelle che saranno le sorti del campionato perché si gioca contro catania cosenza e cinque frondi ci sono in palio davvero punti pesanti abbiamo tre partite veramente importanti soprattutto la prossima dove viene qui la catania sappiamo che è una squadra molto competitiva quindi dobbiamo dare assolutamente il non 110 ma il 200% la stagione di adriano polignino abbiamo parlato fin qui di quella della top volley la mezza la tua nel nel particolare trovato spazi a sufficienza secondo quelle che erano le tue aspettative oppure speravi di poter giocare un po di più ma il mister non sono che decido il mister decide chi chi entra nel campo io do sempre il 100% all'allamento e se vuole ci sono sono sempre presente